La seconda parte dei lavori di sostituzione della tubatura dell'Acquedotto, che corre sotto il Brennero a San Marco, impongono la chiusura totale del traffico, perché la nuova tubatura dovrà essere collocata proprio sotto la mezzeria della sede stradale. Per questo motivo, l'amministrazione comunale ha chiesto e concordato con Geal che i lavori proseguano durante il mese di agosto in notturna, consentendo l'apertura durante il giorno della strada. È stata quindi emanata un'ordinanza che chiude via del Brennero, nel tratto tra via dei Salicchi e via Poschi-Meuron, dalle 21 alle 6, nei giorni dal 5 al 9 agosto e dal 20 al 31. La notte, dalle 21 alle 6, i mezzi provenienti da Ponta Moriano che si dirigono a Lucca dovranno girare a sinistra in via Poschi-Meuron e da qui potranno proseguire utilizzando via delle Ville. Il giorno, dalle 6 alle 21, la via del Brennero sarà aperta nel tratto del cantiere a senso unico per chi da Ponta Moriano si dirige verso Lucca. I mezzi che da via Leci Vitali si dirigeranno verso Ponta Moriano saranno deviate a destra sulla parte est di via dei Salicchi e attraverso via Poschi-Meuron potranno ritornare sulla via del Brennero. Grazie.